Lo scorso sabato per eleggere il nuovo presidente della provincia di Chieti si sono recati a votare 986 amministratori comunali dei 104 comuni della provincia di Chieti. Il voto si esprime per fasce distinte per colore, ad ogni fascia un diverso colore di scheda elettorale. La votazione però è stata annullata quando ci si è accorti che le fasce di due comuni sono state invertite. Agli amministratori delle città in fascia rossa, quelle cioè da 10.000 a 30.000 abitanti, sono state consegnate infatti le schede arancioni che dovevano essere utilizzate per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e viceversa. Noi stiamo mettendo in discussione il decreto che è stato emanato dal presidente facendo funzione dal segretario generale perché il voto è stato sicuramente alterato, perché sono state scambiate le schede in cui c'è il voto ponderato per cui questo voto va a incidere sia per l'assegnazione dei seggi delle singole coalizioni, sia all'interno delle singole coalizioni ci possono essere consiglieri e candidati che vengono penalizzati. Avete fatto una richiesta di accesso agli atti stamane? Abbiamo fatto la richiesta di accesso agli atti per capire quante sono le schede contestate e quali sono le schede contestate. Ci è stato risposto verbalmente che gli atti sono segretati, abbiamo formalizzato la richiesta, più tardi ci presenteremo per avere gli atti, se gli atti non ci verranno consegnati saremo purtroppo costretti a chiamare le forze dell'ordine per fare attestare che ci vengono negati gli atti e poi presentare nel pomeriggio al massimo domani mattina il ricorso al TAR perché tra le anomalie che registriamo il fatto che domenica sera si decide, loro decidono, loro quindi sostengono che c'è un voto alterato e rinviano le votazioni addirittura al 23, dopo quattro giorni non ci sono neanche i tempi per convocare gli elettori a ricarsi al seggio.